sapete quali sono in natura le cose che ci ricaricano di energia tecnicamente sono due il cibo e il sonno e allora oggi vediamo di metterli insieme del buon cibo per un buon sonno sì perché a volte ci scervelliamo alla ricerca di chissà quale soluzione quando invece per dormire bene basterebbe andare in cucina e selezionare con cura gli alimenti da assaporare e quelli da evitare a cena sappiamo tutti che alcuni cibi non ci fanno chiudere occhio durante la notte salumi e formaggi tanto per citarne un paio sono i peggiori disturbatori del sonno oltre ai grassi già pesanti da digerire contengono istamina un potente neurotrasmettitore che aumenta l'adrenalina invece altri alimenti stimolano la produzione di melatonina ecco un vero e proprio menù completo per una cena della buona notte primo piatto riso integrale ricco di triptofano un aminoacido essenziale che stimola la serotonina e poi avocado per un immediato effetto soporifero secondo piatto pesce cotto al forno al vapore con carciofi che aiutano la naturale depurazione del fegato e lo aiutano a lavorare durante la notte così mentre lui lavora noi possiamo dormire esatto e chi è vegano come proteine vegetali può mangiare lenticchie rosse e hummus di ceci contorno una porzione di spinaci e verdure a foglia larga al vapore dopo una giornata frenetica questo piatto aiuta a recuperare i sali minerali bruciati dallo stress e grazie al magnesio fa scivolare bene nel sonno frutta mi raccomando a fine pasto non vanificate tutto per chi la digerisce la banana è ricca di potassio e vitamina b6 che distendono i muscoli e favoriscono il buon umore per tutti vanno bene i kiwi ricchi di antiossidanti vitamina c e folati che aggrediscono l'insonnia qualche mandorla semi di sesamo e un dattero non rovinano la linea ma conciliano il sonno lo zucchero invece meglio evitarlo se seguite i miei video sapete perché se ami anche tu la salute naturale metti mi piace e condividi questo video prendi e sano naturalmente ciao